Buongiorno, benvenuti al Focus Tg, siamo anche oggi in diretta e in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tante come sempre le notizie dalla nostra regione, tanta cronaca anche delle ultimissime ore, continuano ad arrivare notizie anche i lanci di agenzia di cui poi ci occuperemo con le nostre redazioni. Il tema in cui la cronaca va a braccetto purtroppo con l'attualità è quello della siccità, del caldo, le piogge dei giorni scorsi hanno diminuito un po' le temperature, poi vediamo insieme cos'è cambiato. Ma la situazione resta drammatica e le associazioni di categoria avvertono, rischiamo in questo modo di perdere alcune delle eccellenze agroalimentari che caratterizzano proprio il paniere della nostra regione. La politica ci si avvicina alle elezioni, ci sono tanti temi di cui parlare, cominciamo subito dalla cronaca perché è vivissima l'emozione, il cordoglio per quello che è accaduto ieri a Revine Lago, poco dopo le 16 una bambina è sparita nelle acque del lago, con una bambina che stava partecipando a una gita e è stata ripescata purtroppo quando era ormai troppo tardi, si è cercato in tutti i modi di prestarle soccorso ma non c'è stato niente da fare. C'è un'inchiesta aperta in procura, la situazione è stata davvero drammatica, abbiamo già un primo servizio della nostra redazione. Inchiesta aperta in procura a Treviso sulla morte per annegamento ieri nel lago di Revine di Maria Markovecka, la bambina ucraina di 7 anni fuggita dalla guerra insieme alla sua famiglia e ospita del collegio San Giuseppe di Vittorio Veneto. La magistratura trevigiana ha aperto un fascicolo ipotizzando i reati di omicidio colposo e omessa a vigilanza al momento a carico di ignoti. Non ci sarebbero a tuttora degli iscritti nel registro degli indagati anche se i carabinieri di Vittorio Veneto stanno proseguendo la verbalizzazione delle testimonianze dei tanti che erano presenti sul luogo della tragica morte della piccola. Sul corpicino di Maria verrà con tutta probabilità eseguita l'autopsia. La bambina si trovava al lago insieme ad altri 70 bambini del Grest parrocchiale del campus San Giuseppe di Vittorio Veneto, una gita con esito tragico. Pare che Maria fosse scomparsa da almeno 50 minuti quando ci si è accorti della sua assenza. Il ritrovamento del corpo è avvenuto quando ormai era troppo tardi. I disperati tentativi di rianimare la piccola, andati avanti per quasi un'ora, non sono purtroppo serviti a scongiurare il peggio. E ieri pomeriggio c'erano sul posto i nostri giornalisti, i nostri operatori per le prime informazioni, per capire che cos'era successo. Ci sono tante voci, abbiamo raccolto quelle dei testimoni, sentite. Io faccio una passeggiata qui in riva al lago, quando vedo una coppia che col piede sposta un corpo. Io allora l'immagine che ho è che vedo un costumino rosso a galla, quindi quando lo vedo subito mi tuffo, la metto in braccio e la porta in riva e comincio a rianimare. In continuazione, siamo stati un quarto d'ora, non so quanto, a rianimarla. Ragazzi, con tutte le nostre forze, anche l'infermiere è venuta, mi ha dato una grande mano, anche il proprietario del bar. Poi sono arrivato l'elisoccorso, il 118, abbiamo lasciato in mano ai soccorsi. Si sa più o meno la generalità di questa bambina, sai qualcuno? Allora, io so che è una bambina ucraina, non so il nome, è ucraina, che era in gita con un gruppo di amici, una scuola. Non sai l'età? Sì, nove anni. Nove anni? È una bambina molto esile, biondina, occhio azzurro, una bella bambina, peccato, peccato, peccato. Ma si poteva recuperare secondo te? Allora, a quanto stabiliscono la bambina era scomparsa da circa 40 minuti. Ora, parlando con la coppia che l'ha trovata, perché quando l'ho tirata fuori mi diceva che già era nel fondo parecchio e che si spostava, però non riuscivano a capire dove era, perché la toccavano con i piedi, ma non riuscivano a trovarla. Dopodiché il signore, mi sembra che sia un francese, l'ha sollevata con un piede e lì sono intervenuto io, perché purtroppo non perché sono un vigile del fuoco, l'avrei fatto anche per spirito. Mi sono tuffato, l'ho preso, l'ho portato in riva e ho incominciato immediatamente a fare... Guarda, una cosa triste, perché a parte che sia una bambina, però non poterla aiutare, salvarla, mi dispiace, sono molto scosso pure, però... Però tu sei un vigile del fuoco, per cui... Sì, però ti assicuro che quando fai questi interventi, soprattutto i bambini ti rimangono dentro e non li dimentichi facilmente. Naturalmente queste erano le prime testimonianze, le prime parole di chi aveva partecipato attivamente al tentativo di salvataggio di questa sportunata bambina. Quindi è tutto ancora da ricostruire in modo esatto, come abbiamo detto all'inizio della nostra informazione, c'è un'inchiesta aperta dalla Procura a questa mattina. Non risultavano persone iscritte nel registro degli indagati, era a carico di ignoti per il momento, però è tutto ovviamente ancora da ricostruire. Se arriveranno, quando arriveranno notizie, ve le daremo nel corso della nostra informazione nel Focus TG o nei telegiornali delle nostre emittenti. Arriva un'altra notizia drammatica, questa volta dalla provincia di Rovigo, arriva adesso con l'Ansa proprio pochi istanti fa. Resti umani appartenenti a una persona, qui dicono di pelle bianca, sono stati recuperati stamane a Villanova del Ghebbo in una chiusa del fiume Adigetto. Si tratta in particolare di un arto, una gamba sinistra, quanto sembra dalle prime informazioni. Non si sa se di un uomo o di una donna dare l'allarme, sono stati i tecnici del consorzio di bonifica che hanno avvertito i carabinieri. Il medico legale ha confermato che si tratta di un arto umano, sarebbe in acqua non da molto tempo. Anche qui la nostra redazione padovana si sta occupando di capire i contorni di questa vicenda. Se arriveranno altre notizie o altre agenzie ve le daremo qui nel nostro Focus TG. Andiamo a vedere invece i controlli a Torri di Quartesolo. La sicurezza e il controllo del territorio è per noi una priorità. Il controllo della microcriminalità è importante per fare in modo che la popolazione possa sentirsi tranquilla. Torri di Quartesolo, estate con vista sulla sicurezza. Il sindaco incontra il questore e gli indica i quartieri da controllare le zone a più alto allarme sociale. E le forze dell'ordine entrano in azione. Trenta uomini e donne della Polizia di Stato, dei carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Torri di Quartesolo col supporto del reparto Prevenzione Crimine, passano al setaccio il paese. In particolare viene controllata l'area di un ampio campo nomadi dove vengono rintracciati personaggi con precedenti penali o di polizia per reati legati alla droga, contro il patrimonio e contro la persona. Poste di controllo lungo le principali arterie stradali in entrata e in uscita dal comune di Torri di Quartesolo in particolare sulla strada regionale 11. Durante l'operazione sono state identificate 39 persone di cui 11 straniere e 18 con precedenti penali o di polizia. 10 veicoli controllati, 2 gli esercizi pubblici con verifiche di carattere amministrativo. Al termine il questore ha firmato due fogli di via obbligatori per tre anni da Torri di Quartesolo nei confronti di personaggi gravati da precedenti e residenti in altri comuni e 11 avvisi orali nei confronti di altrettanti italiani e stranieri con una spiccata pericolosità sociale. L'operazione ha portato dei risultati, alcuni comportamenti non aderenti alla legge sono stati sanzionati. Ringrazio il questore per questa pronta risposta, mi auguro che nel futuro si possa ancora usufruire della collaborazione e della presenza delle forze di polizia che ringrazio a loro volta per la professionalità che hanno dimostrato. Ancora controlli ma stavolta per quanto riguarda lo spaccio di sostanze stupefacenti nel Padovano. Una serra casalinga per coltivare cannabis. I carabinieri l'hanno scoperta nell'abitazione di un 28enne a Veggiano. Durante un'operazione antidrogue i militari hanno perquisito la casa del giovane che evidentemente aveva deciso di autoprodursi lo stupefacente da vendere. All'interno della casa sono state trovate otto piante di cannabis di varie dimensioni e sempre in casa rinvenuti anche sei grammi di marijuana suddivisa in involucri di celofan pronti per essere spacciati. Il 28enne è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti. I fini di spaccio, le piante e la marijuana sono stati sequestrati. Facciamo ora una brevissima pausa pubblicitaria. Voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus Tg. Siamo anche oggi in onda in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina della Cronaca. Ci arriva una notizia dalla nostra redazione padovana. Telefonate con minacce scritte con la vernice sui muri di casa per evitare che la moglie chiedesse il divorcio. Per questi e altri gesti la squadra mobile ha notificato un provvedimento di divieto, di incontro e avvicinamento alla donna e figli minorenni nei confronti di un 45enne padovano. L'uomo è indagato per maltrattamenti e lesioni. Dopo che la moglie gli aveva comunicato l'intenzione di separarsi, ha iniziato una serie di appostamenti sotto l'abitazione. Vi sono infine state anche aggressioni per strada. La polizia, dopo averlo intercettato sotto casa di moglie e figli, nonostante fosse indagato, ha allertato la procura che ha emesso un nuovo provvedimento. Adesso torniamo a Iesolo, perché ieri eravamo andati in diretta a sentire il sindaco della località Rivierasca che ci aveva raccontato l'episodio avvenuto la sera prima con una sparatoria in mezzo alla gente. In via Verdi c'era stato il ferimento di un quarantenne. Abbiamo approfondito poi tutta la vicenda. Ecco il servizio. Ho visto che tutti quanti scappavano, ho sentito sparare, punto due o tre colpi, e poi ho visto fuggi fuggi, tutti che scappavano, tutti che se nascondevano. Paura ieri sera a Iesolo, quando alle 23.30 la violenta lite sembra per questione legata allo spaccio tra due connazionali di nazionalità tunisine, sfociata con il ferimento di uno dei due. Dopo che l'altro, estratta la pistola, gli ha sperato contro tre colpi d'arma da fuoco incurante della gente attorno e vicina, provocando il panico con il fuggi fuggi generale e l'arrivo immediato delle forze dell'ordine, come testimonia questo video diventato virale in rete. L'insugamento con la sparatoria culminata qui in via Verdi è terminata con la fuga del ferito che ha cercato riparo all'interno del locale alle mie spalle. Tanta la paura, ci dicono oggi gli impiegati. Qui al civico 126 ancora visibili le tracce dove la polizia ha rinvenuto due dei tre proiettili sparati con il terzo conficcatosi alla schiera del quarantenne ferito che trasportato a Mestre si trova ancora ricoverato e piantonato dalla polizia all'ospedale dell'Angelo dove è stato operato d'urgenza. L'aggressore invece è riuscito a fuggire. La polizia lo sta cercando ma la sua fuga potrebbe avere le ore contate. Gli agenti per intracciarlo, oltre alla testimonianza del ferito, stanno analizzando pure i filmati e registrati dalle telecamere di sorveglianza della zona, raccogliendo al contempo anche i racconti di turisti e residenti presenti al fatto. E qualcuno che gridava perché appunto era anche di là dall'altro terrazzo e sparivano tutti. Furiosi commercianti per questo gravissimo episodio di violenza a Jesolo in piena stagione turistica dicono. Una località come Jesolo che vive di turismo e quindi di immagine positiva non può assolutamente permettersi queste situazioni. Tra le soluzioni prende nuovamente corpo la proposta del presidio fisso di militari armati. Abbiamo richiesto più volte l'invio anche di militari, che non c'è niente di strano e di particolare perché tutte le grandi città europee e anche qua vicino basta andare a Venezia, la cosa succede, c'è e non dà nessun fastidio né al turista né al cittadino. Il sindaco di Jesolo ci aveva detto ieri, ci aveva confermato che si tratta comunque di un episodio decisamente isolato che la movida jesolana come quella di molti altre località del Veneto non è rischiosa e non è a rischio. Poi ovviamente ci informeremo, approfondiremo e cercheremo di capire anche i contorni di questa vicenda. Nel frattempo arriva un'altra nota d'Agenzia Nazionale, la squadra mobile di Venezia, restiamo a Jesolo, ha arrestato un giovane che nella notte tra il 2 e il 3 di luglio aveva commesso un tentato omicidio nei confronti di un minore. L'aggressione era avvenuta a Jesolo per futili motivi. Queste le primissime note d'Agenzia Nazionale, adesso andremo alla ricerca di questa vicenda per potervela raccontare in modo più dettagliato, quindi restiamo nel veneziano, dopo il tragico incidente sulla miranese il PM dispone una perizia, vediamo. Il pubblico ministero della procura di Venezia ha disposto un accertamento tecnico per ricostruire la dinamica del tragico incidente costato la vita a soli 23 anni a Lorenzo Piran, accaduto domenica sera, poco dopo le 22.30 sulla miranese a Chirignago, non distante da dove risiedeva il giovane che tra un mese e mezzo si sarebbe laureato in economia aziendale all'Università Ca' Foscari. È stato subito aperto un procedimento penale per omicidio stradale a carico di un 39enne moldavo, residente nel comune di Venezia, che avrebbe tagliato la strada al 23enne che sopraggiungeva nella direzione opposta in sella alla sua moto. Il PM ha convalidato il sequestro dei due veicoli e del telefono cellulare dell'automobilista e ha disposto appunto una perizia cinematica prevista questo pomeriggio negli uffici della procura di Venezia. La salma è ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Quando arriverà il nulla osta potrà essere fissata la data dei funerali. Restiamo nel veneziano, anzi restiamo proprio a Venezia e Mestre. Il questore ha deciso di chiudere ben tre locali in Via Piave. Vediamo perché. Sigilli per 15 giorni a tre locali pubblici di Via Piave a Mestre. Sono scattati per ordine del questore di Venezia Maurizio Masciopinto. Gli esercizi sono finiti nel mirino della polizia dopo le numerose segnalazioni e grazie alle informazioni raccolte dalle forze dell'ordine. Si tratta del bar Girasole di Via Leardi, il Best Service ex bar Gagliano di Via Piave e la pizzeria Hurt di Via Gozzi. Il primo era già finito nel mirino delle forze di polizia a fine luglio 2017. All'epoca a chiudere il bar era stato l'allora questore Gagliardi per motivi di ordine pubblico con la sospensione dell'attività per una settimana. Il provvedimento di martedì è scattato verso le 20 nell'ambito dei controlli sul territorio eseguiti dalla polizia e in base alle direttive del Dipartimento di Sicurezza Pubblica. Numerose volanti sono state viste passare dalla gente e dagli atleti impegnati in un evento sportivo che si stava svolgendo in zona. Nel pomeriggio si è svolta una commissione consigliare con sopralluogo al sottopasso della stazione di Via Dante, divenuto luogo simbolo dello spaccio e della violenza in terraferma. Proprio in questo momento la Procura della Repubblica di Venezia ci conferma il fatto di cui vi abbiamo dato notizia poco fa tramite l'ANSA. Conclusione di un'attività di indagine condotta dalla squadra mobile della Questura di Venezia e diretta dalla locale Procura della Repubblica è stato tratto in arresto un giovane residente nel Trevigiano che nella notte fra il 2 e il 3 luglio scorso a Jesolo si era reso responsabile del tentato omicidio di un minore con cui poco prima aveva avuto un alterco per motivi futili. Le attività investigative svolte anche con l'ausilio del commissariato di polizia di Jesolo hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti di questa persona e si sono avvalse anche delle immagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza oltre che delle informazioni acquisite dalle persone informate dei fatti e dei testimoni da chi era in zona. L'ordinanza di custodia a contrarre in carcere è stata immessa dal GIP presso il Tribunale di Venezia e è stata eseguita nella giornata di lunedì. Vediamo se abbiamo anche qualcosa in più ma ve lo raccontiamo poi nel seguito della nostra informazione. Adesso stiamo a mestre per spaccio e degrado tutti i problemi della città. Il sopralluogo di oggi avviene facendo seguito alla seconda commissione che è avvenuta il 7 di luglio e sulle problematiche riscontrate proprio nel sottopasso, la pista ciclo pedonale che collega via Dante con via Rizzardi, quindi che collega Mestre con Marghera e viceversa. Unica ciclabilità per quanto riguarda le due municipalità. Alla luce dei sempre più frequenti episodi di spaccio e degrado, l'assessore comunale alla sicurezza ha dunque deciso di effettuare un sopralluogo in quello che è divenuto luogo simbolo della violenza a Mestre, il sottopasso della stazione di via Dante. L'amministrazione, dice Pesce, sta mettendo in campo quanto in suo potere per far fronte al problema. La polizia locale, in primis, e le forze dell'ordine, il loro impegno è costante. Dopo aver attivato dei presidi fissi, si è deciso di far passare una pattuglia su Quad perché si è ritenuto più efficiente e più veloce che anziché fare un passaggio a piedi della polizia locale. E questo ha portato proprio in questa, nella via Dante, a 17 ordini di allontanamento. L'obiettivo è quello di mettere in atto azioni concrete per la riqualificazione urbana e mettere la parola fine al degrado. La riqualificazione urbana è una priorità per garantire ai cittadini un migliore abitare. Il progetto di riqualificazione della stazione di Mestre ne sarà la prova. Situazioni simili si vivono in moltissime città e cittadine del Veneto. Adesso andiamo a Vicenza perché si è deciso di chiudere un bar che non aveva le autorizzazioni in regola. Tre giorni di tempo, non uno di più. Scatta la diffida per il gestore del locale di Viale Ferrari in Navicenza, sanzionato nei giorni scorsi con 5.000 euro di multa e col divieto di proseguire l'attività perché non aveva le autorizzazioni comunali. Eppure, nonostante l'ordine di chiusura, il gestore ha tenuto aperto il locale ad accorgersene gli agenti delle volanti della questura che all'interno del bar hanno trovato 5 clienti che stavano consumando bevande. E' scattata quindi la diffida. Se il gestore non chiuderà il locale entro tre giorni e non regolarizzerà la situazione, sarà disposta la chiusura del bar con i sigilli e l'intervento della forza pubblica. Come amministrazione, sin dal giorno del nostro insediamento, abbiamo sempre mostrato una spiccata sensibilità nel mettere bar e ristoranti nelle condizioni migliori per lavorare. Ciononostante comunque non abbiamo nessuna intenzione di tollerare situazioni di irregolarità. E devo veramente ringraziare non solo il personale dei nostri uffici, ma anche gli agenti della questura per questa operazione condotta in sinergia dall'inizio che ha portato per l'ennesima volta a porre fine a una situazione di irregolarità. Sempre per la cronaca, due persone sono state arrestate in flagranza di reato per detenzione ai fili di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata portata a termine dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di San Donato di Piave nell'ambito di un'attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica. I due soggetti sono stati trovati in possesso di 16 kg di marijuana individuati in un'auto e nelle pertinenze di un'abitazione per un valore che avrebbe fruttato al dettaglio almeno forse oltre, addirittura 80.000 euro. Quindi 16 kg di marijuana sequestrati dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile a San Donato di Piave. Anche qui vediamo se arriverà qualche informazione in più nel corso del nostro telegiornale. Adesso noi facciamo una brevissima pausa. State con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tante le notizie di cronaca dalla nostra regione. Vogliamo ricordare le più importanti. Aperta un'inchiesta sulla morte di una bambina proveniente dall'Ucraina che ieri è stata trovata senza vita nel lago di Revine. Pare che sia spuggita, tutto da prendere con le pinze, naturalmente al controllo, di chi l'aveva accompagnata sul posto nell'ambito di una gita e è stata ritrovata in acqua, è stata soccorsa, sono state prestate le prime cure ma non c'era più niente da fare. Invece in provincia di Rovigo, Villanova del Gebo, è stato ritrovato un arto umano all'interno della Digetto, pare secondo le prime conferme da parte dell'autorità sul posto che si tratti effettivamente di una gamba che non era probabilmente in acqua da molto tempo. Quindi notizie tragiche che arrivano dalla nostra regione, meno tragiche, meno drammatiche invece le notizie che arrivano da Tombolo dove dopo i vandalismi e le minacce si decide di chiudere un campo da calciotto che era stato messo gratuitamente a disposizione dei ragazzini del paese. Vediamo perché. Il cartello appeso al campo di calciotto degli impianti sportivi di Tombolo parla chiaro, chiuso per la maleducazione e i vandalismi degli adolescenti che lo hanno usato in queste settimane. Non è la prima volta, ma questa decisione è sofferta, spiega al telefono Zeu di Doris. La cosa che ha fatto traboccare il caso è il fatto che abbiamo lamentato questa cosa con i diretti interessati, con i diretti genitori e dall'altra parte ti scontro con un muro di gomma, quindi c'è proprio una cosa che mi ha detto, vabbè allora mi arrendo. Impossibile parlare con questi ragazzi adolescenti o preadolescenti che hanno poco rispetto nonostante la libertà di entrare gratis il pomeriggio in un impianto ben tenuto e ben curato. Se siamo passati da, imbrattano le panchine, disegnando svastiche e quant'altro, abbiamo l'impianto di irrigazione nel campo, con la bicicletta ci vanno sopra e ogni volta che vanno sopra sono 700-800 euro di danni, senza contare che quando li riprendi ti trovi con, non so, io sono veramente allibita del linguaggio che usano e quant'altro. Adesso la palla tocca ai ragazzi, la possibilità di accesso è nelle loro mani. Sempre in zona concluse le indagini preliminari per un traffico di rifiuti. Nelle scorse settimane la Procura di Venezia ha comunicato la conclusione delle indagini preliminari dell'inchiesta sul traffico illecito di rifiuti campani che coinvolge una ditta di Piazzolla sul Brenta. La chiusura della fase di indagini vale anche come informazione di garanzia per una ventina di imputati. La ditta incriminata avrebbe mescolato i rifiuti alle materie prime plastiche. Dalla campagna sarebbero arrivate oltre 150 tonnellate di rifiuti, in parte speciali per lo più indifferenziati. Ad accoglierli in Veneto, oltre a quella di Piazzolla, sarebbe stata anche una seconda azienda di Cavaso del Tomba, nel Trevigiano. Secondo il sostituto procuratore di Venezia, le imprese inserivano i rifiuti in parte nel ciclo produttivo destinato alla lavorazione di materie prime plastiche con l'intento di rendere irritracciabile il rifiuto stesso, conseguendo così un ingiusto profitto, ovvero incamerare la somma patuita per lo smaltimento illegittimo, almeno 48 euro a tonnellata, nonché il guadagno della plastica in tal modo prodotta. Saliamo adesso nella zona dell'altopiano dei sette comuni o nei pressi comunque dell'altopiano, perché dopo tutti i problemi che hanno creato i lupi in questo inizio di stagione estiva con predazioni e danni di vacche, bovini, asini, puledri, cavalli, capre, pecore, insomma è stato predato davvero un po' di tutto questa estate. Un lupo è stato visto nelle strade di Crosara, una frazione di Marostica appollaiata sull'altopiano, secondo alcuni non sarebbe un lupo, insomma le immagini sono abbastanza chiare, vediamole. Che il lupo sia ormai una presenza fissa in altopiano è fuori di ogni dubbio, vista la cronaca che quasi quotidianamente racconta di predazioni e assalti a vacche, pecore e asini nell'area di sette comuni. Ma vedere un lupo che scorrazza tranquillo per il centro di Crosara, frazione di Marostica appollaiata a mezza costa sulla gran spalla dell'altopiano, è cosa molto rara. Per questo motivo il video che state vedendo girato qualche sera fa tra le case del paese è diventato letteralmente virale sui social. Pochi secondi che mostrano quello che presumibilmente è un esemplare adulto correre verso San Luca facendo perdere le proprie tracce. Secondo alcuni infatti non si tratta di un lupo ma di un cane di grossa taglia. Sarà lo stesso esemplare che qualche tempo fa era sceso fino a Marostica o è il segno di una nuova presenza di selvatici anche nei paesi? Abbiamo parlato anche con il sindaco Matteo Mozzo che ha espresso come altri residenti alcuni dubbi sul fatto che si tratti o meno di un lupo, di un selvatico. Poi cercheremo di capire magari con l'ausilio di qualche esperto se quello era veramente un selvatico, uno dei tanti lupi presenti in altopiano. Ricordiamo che sono almeno tre i branchi che stazionano da tempo in quelle zone. Quindi anche per capire proprio come si muove la presenza di questi animali in un territorio densamente abitato come quello dei sette comuni e delle zone circostanti. Cambiamo decisamente argomento. A Cadoneghe si è deciso di dare la cittadinanza onoraria agli agenti della scorta di Giovanni Falcone. Il Consiglio Comunale di Cadoneghe ha votato all'unanimità la mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria e degli uomini della scorta del giudice Giovanni Falcone, Giuseppe San Marco, Luciano Tirindelli, Giuseppe Anselmo Lopresti, Francesco Vellutini, Giuseppe Tavolacci. Una proposta che arriva nel trentennale delle stragi di Capaci di Via d'Amelio. A Cadoneghe, nel quartiere Bragni, ci sono anche una statua e una scuola dedicata ai due giudici antimafia. Il Comune di Cadoneghe ha fatto sapere il sindaco Marco Schiesaro sarebbe inoltre beneficiario di 6.296 euro provenienti dal Fondo per la promozione della legalità previsto dai Ministeri dell'Interno e dell'Istruzione e dell'Economia per gli enti pubblici dove si siano verificati episodi di intimidazione ai danni degli amministratori pubblici. Nel 2021, infatti, il primo cittadino è stato minacciato di morte da parte di un cittadino. Queste risorse andranno investite nella promozione della legalità sul territorio, ha fatto sapere Schiesaro. Chiudiamo la pagina della cronaca, pronti a riaprirla, non dovessero arrivare notizie dal Veneto e entriamo in quella della siccità, del maltempo, del meteo. Perché? Abbiamo già le informazioni che ci arrivano dall'ARPAV, le vediamo con la regia di Fabio Verini e Alessandro Costa Curta. ieri le temperature sono scese di molto. Insomma, la perturbazione che è passata sulla nostra regione ha abbassato almeno di 5, forse 6 gradi le temperature massime. Infatti vediamo che la massima della giornata di ieri è stata toccata a Gaiarine con 33,7. Ricordiamo che solo il giorno prima eravamo ancora attorno ai 38-39 gradi in alcune zone del Veneto. Nel fine settimana avevamo spiorato i 40 gradi. Quindi è già qualcosa, si respira un po', sono dati decisamente più nella media del periodo. La temperatura minima è stata toccata a Gazziniano, temperatura minima ovviamente in pianura, non nelle zone di montagna con 17,5 gradi. Nelle zone, insomma, appena nelle alture siamo comunque attorno ai 15 gradi notturni e questo permette alle case, ai centri abitati di sfogare un po' del caldo accumulato durante il giorno. Vento forte, ma questo lo sapevamo già, nel Padovano con le perturbazioni che si sono sfogate nei giorni scorsi. 85 km all'ora a Tribano e quasi 90 mm di pioggia a Sant'Elena. Ricordiamo che 90 mm di pioggia in poche ore sono in grado di sconfiggere qualsiasi sistema di deflusso delle acque meteoriche. Quindi di solito quando ci sono precipitazioni così intense qualche problema c'è sempre. Vedremo se arriveranno le perturbazioni annunciate anche per i prossimi giorni. Pare che agosto debba cominciare sotto la pioggia. Naturalmente è tutto da vedere. L'emergenza della siccità comunque crea problemi. Non è che quello che è sceso dal cielo nelle scorse ore possa cambiare granché una situazione che va avanti da settimane. È necessaria addirittura un'analisi delle acque in centro a Padova. Vediamo perché. Sono iniziati nelle scorse ore i prelievi per poi analizzare le acque dei canali padovani. La siccità che sta provocando la secca dei corsi d'acqua in Tanni di Padova ha causato la morte di molti pesci e la restante parte di fauna itica è stata messa in salvo. Il rischio concreto ora è quello di una contaminazione delle acque stagnanti derivanti dalla presenza di scarichi nei canali ormai prosciugati nelle zone del centro storico di Padova. E così il Comune ha fatto una formale richiesta ad Arpava per effettuare le analisi sulla qualità dell'acqua e sulla carica batterica presente nei canali. La polizia locale sta svolgendo in queste ore i prelievi più urgenti nelle acque nella zona tra il Parco Treves e Ponte Corvo vicino via Belludi e in Riviera Ruzzante nei pressi della Questura. Arpava poi valuterà ulteriori punti di prelievo. Le analisi saranno anche controllate dal Dipartimento di Prevenzione dell'USL 6 il quale potrà dare ulteriori indicazioni ed eventuali suggerimenti sulle azioni da mettere in campo per tutelare la salute pubblica come trattamenti particolari che possono far diminuire il forte odore presente nei canali derivante anche dalla putrefazione dei pesci. Se i risultati non dovessero essere buoni anche il Comune interverrà con delle ordinanze. Il caldo dei giorni scorsi ha causato un'impennata nel numero degli interventi e delle richieste di soccorso al 118. Vediamo com'è andata nel Trevigiano. Questa situazione, questa ondata di calore ha comportato un aumento importante delle richieste, delle chiamate al 118. A fronte di una media giornaliera di 360-370 abbiamo ricevuto tutti i giorni mai meno di 400 chiamate con alcune giornate di picco con anche più di 550 chiamate in un'unica giornata e contestualmente sono aumentati anche gli interventi di soccorso. Centralini bollenti davvero in tutti i sensi in questo luglio da record al suo M118 di Treviso come se non bastassero il Covid e le allerte per West Nile e vaiolo delle scimmie. L'aumento in termini percentuali causa meteo si è attestato tra il 25 e il 30% se si guarda lo stesso periodo dello scorso anno. L'aumento sicuramente è riferito al calore, non al colpo di calore perché il colpo di calore è una situazione ben definita e diversa dal disagio da calore. Una differenza tutt'altro che di dettaglio il colpo di calore può essere letale e i segnali vanno subito identificati. Il colpo di calore è una situazione grave che può mettere anche un pericolo di vita quindi può portare a morte. Il colpo di calore si manifesta con una elevata temperatura corporea con vari sintomi, cefalea, partita di coscienza, crampi ma la cosa più evidente e importante da sapere perché riconosciuto in tempo ovviamente si gestisce e si interrompe la catena che viene innescata dal colpo di calore è a fronte di un'elevata temperatura del corpo una cute secca e priva di sudorazione. In questo caso il messaggio dalla centrale operativa di Treviso è quello di allertare immediatamente i soccorsi. Prima di andare in pubblicità ci arriva un aggiornamento sul fatto di cronaca che ha portato all'arresto di un giovane trevigiano per tentato omicidio di un minore avvenuto a Jesolo nella notte fra il 2 e il 3 luglio. Come dicevamo dopo le indagini che hanno portato a identificare quello che potrebbe essere l'autore dell'aggressione avvenuta per futili motivi ci sono state testimonianze, ci sono anche delle immagini che sembrano spiegare molto bene quello che è successo. Ci dice l'Ansa, il giovane ha colpito il minore al torace con un coltello addirittura più volte quindi prende forma proprio questa aggressione vedremo se arriverà qualche altra notizia. Adesso facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto siamo nella pagina dedicata a questo momento di grave difficoltà fra siccità, esplosione di costi delle materie prime, problemi con il meteo che a volte porta veramente fenomeni molto intensi su tutta la regione e ne parliamo con Valentina Visentin che ci aspetta in diretta in un'azienda agricola di Villa del Conte buongiorno Valentina Buongiorno Ferdinando esattamente ci troviamo all'interno dell'azienda agricola del signor Francesco Cazzaro che è anche presidente del Consorzio di Bonifica Risorgive siamo all'interno di una stalla perché ovviamente le ripercussioni dell'asticità dell'emergenza idrica ci sono anche per gli animali che soffrono il caldo soffrono la carenza di acqua chiedo al collega Andrea Benetti di inquadrare guardate c'è perfino un ventilatore che serve per dare un po' di sollievo a questi animali e ovviamente sono tutti i costi che si aggiungono e il mantenimento del bestiame ci spiegava il signor Francesco è davvero difficile sì ecco quella del ventilatore è qualcosa che si aggiunge perché in condizioni normali gli altri anni difficilmente se non per una quindicina di giorni si usa qui invece quest'anno il forte caldo è prolungato soprattutto nel tempo ha fatto andare in difficoltà gli animali abbiamo dovuto provvedere c'è chi ha anche la difficoltà per l'alimentazione comunque perché i costi sono andati alle stelle delle materie prime c'è chi non riesce a farcela finanziariamente addirittura ha ipotizzato di cedere degli animali per riuscire ad alimentare almeno quelli che gli restano voi avete anche il mais che di solito veniva utilizzato in parte per alimentare anche il bestiame domani iniziate la raccolta una raccolta anticipata di conseguenza potrebbe anche esserci meno mangime per il bestiame diciamo che mediamente si comincia verso la fine di agosto quindi siamo in anticipo di un mese ma le ragioni sono quelle che conosciamo tutti c'è il forte caldo che ha mandato in forte stress le piante soprattutto il mais che qui la fa un po' da padrona diciamo in questa zona ed è andando in sofferenza quel che si riesce a recuperare lo si fa anticipando la raccolta per quanto riguarda il masceroso che poi serve per alimentare appunto il bestiame ma anche questo con costi quest'anno praticamente raddoppiati dicevamo il settore quello della zootecnia una volta era un settore remunerativo fiorente adesso invece è difficile portarlo avanti e ci spiegava molte aziende a fine stagione potrebbero chiudere eh sì il Veneto è forse ancora il maggior produttore di carne per quanto riguarda la produzione nazionale e questa zona è veramente evocata e da decenni diciamo è una tradizione l'imprenditoria agricola zootecnica e adesso sta andando in forte difficoltà un po' per le temperature che sono sempre più alte e quindi scoraggiano anche l'uso diciamo l'alimentazione umana con la carne il consumo di carne però di fatto il principale problema è che i margini sono talmente sottili che un'azienda come la mia come la nostra con circa 200 capi non riesce sicuramente a sopravvivere e deve avere altre attività complementari ecco Ferdinando prima di passare alla situazione dell'acqua se hai qualche domanda su questo tema della zootecnia del bestiame del mais se no passiamo appunto a capire con il signor Cazzaro anche la difficoltà poi di trovare l'acqua dai consorsi di bonifica Valentina allora al volo proprio perché il tema poi dell'acqua è altrettanto importante abbiamo parlato con gli allevatori che in questo periodo sono in alpeggio che ci dicevano che appunto il ritorno nelle stalle e questo vale moltissimo per l'alta Padovana in cui voi siete sarà davvero problematico da ottobre in poi proprio per l'approvvigionamento del mangime per il bestiame che tra che sfalci non se ne fanno più perché la siccità sta devastando tutto e il mangime costerà tantissimo quindi la vera ondata arriverà più avanti ci conferma il tuo ospite questo? Ferdinando perdonami ma non ti sento più la domanda riguardava l'alpeggio il ritorno delle mucche ad ottobre con la carenza di mangime renderà ancora più difficile la situazione ma quell'attività là è già in grosse difficoltà perché si è esaurita praticamente la disponibilità d'acqua e da quel che ho visto qualcuno con costi esorbitanti porta su l'acqua per gli animali con le autobotti e non oso immaginare ecco quando torneranno e i costi per l'alimentazione che si sono di fatto raddoppiati andranno a mettere in difficoltà anche quel tipo di attività sicuramente sì ecco allora un'ultima dopo questa domanda un'ultima riflessione dicevamo sulla difficoltà sull'emergenza idrica il consorzio risorgiva è in una situazione drammatica che cosa sta accadendo? il consorzio acqua risorgiva vive dell'acqua che diciamo arriva dai due consorzi confinanti a ovest il consorzio Brenta e il consorzio Piave a nord-est poca acqua hanno anche loro quindi a noi quella che resta è praticamente quasi praticamente nulla adesso noi viviamo per lo più delle risorgive che abbiamo qui con il Tergola con il Sile con il Marzeneo con il Draganzolo però siamo arrivati al punto di dover chiudere tutte le derivazioni in particolare da Tergola e Muson vecchio perché non ce n'è più in questi fiumi quindi non ce n'è da togliere per dare alle canalette per irrigare i campi altrimenti il fiume si secca e a valle rimane praticamente vuoto ecco Ferdinando questa è la situazione davvero drammatica di un territorio quello dell'Alta Padovana che è vocato al settore della zootecnia e anche al settore agricolo delle coltivazioni da Villa del Conto è tutto restituisco la linea allo studio ringraziamo Valentina Visentina e i suoi ospiti avete visto la situazione davvero complicata drammatica per tutto il settore abbiamo avuto modo di introdurre anche il tema di cui parleremo ora ovvero l'alpeggio le malghe rischiano di chiudere anzitempo a causa della siccità che sta attanagliando in questo caso parliamo dell'Alto Piano di Sette Comuni ma molte zone della montagna Veneta una volta che le mandri saranno scese a valle in anticipo però il problema si riproporrà nuovamente ne abbiamo parlato con Davide Nicoli della Malga Serona sull'Alto Piano sentite cosa ci ha detto oggi è una giornata che ha dell'incredibile perché non avremmo mai pensato di dover transumare cioè portare a casa le vacche dell'Alpeggio ai primi di agosto ma in me la società sta colpendo veramente forte ci ritroviamo in un punto tale in cui non c'è più arbo a disposizione per i nostri animali le pozze di abbeveraggio sono asciutte Davide ha deciso si scende a valle la sua stagione dell'Alpeggio finirà ai primi di agosto invece che a San Matteo come da tradizione ma Malga Serona probabilmente sarà solo la prima struttura dell'Alto Piano a fare questa scelta difficile per molti versi drammatica legata alla siccità che sta rendendo inospitale il territorio per l'allevamento Malga Serona è la Malga più meridionale dell'Alto Piano e tra l'altro Pasqua è anche abbastanza scabroso ma vedete il cotico com'è completamente bruciato purtroppo le piogge di questi giorni ci hanno schivato e ahimè giunti a questo momento con l'erba bruciata anche probabilmente una grande pioggia non riuscirebbe più a riportare il ricaccio il ricaccio sarebbe la ricrescita del cotico erboso nel pascolo tutto sta cambiando troppo velocemente e anche il mondo dell'Alpeggio dovrà prendere decisioni importanti nel prossimo futuro ci confrontiamo con un cambiamento climatico importantissimo e questo ci dovrà portare a ripensare il modo di gestire l'Alpeggio ripensare il modo di tutelare il nostro ambiente la crisi causata dalla siccità non riguarda solo l'Alpeggio ma avrà ricadute disastrose anche giù in pianura il problema non è più solo in Malga pensate a che danno è per noi a livello economico dover prendere gli animali e riportarli a casa in questo momento questo momento in cui la siccità colpisce anche in pianura e ahimè il fiero è poco il costo delle materie prima è altissimo e prevediamo che sarà un inverno veramente complicato e così il vivace colorato chiassoso rito della transumanza che fra settembre e ottobre anima le strade che scendono dalle terre alte del Veneto rischia di finire silenziato dal mondo che cambia dalla tradizione a ricordo il passo è davvero molto breve e tutto questo rischia anche di avere ricadute pesantissime per le eccellenze del comparto agroalimentare del Veneto è arrivata una nota di col diretti a livello nazionale ma qui c'è un focus proprio sul Veneto a rischio molti tesori del gusto sono centinaia i prodotti che esprimono la biodiversità del Veneto dal formaggio imbriago al bastardo del grappo un altro formaggio che si fa sul massiccio del grappa dalla soppressa il sangue morlacco antico licuore citato anche da Gabriele D'Annunzio ancora le giugiole di Colliugani oltre a una varietà di miele di nicchia come quello di barena della laguna veneta la tipica barretta energetica delle dolomiti il riso di grumolo delle abadesse e tanti altri per un totale di quasi 400 prodotti che appunto esprimono la biodiversità del Veneto ma che sono messi a rischio dalla siccità che sta colpendo alle produzioni agroalimentari in tutto il paese prosciugando questa è una nota una frase ufficiale della sua azionica teoria un bacino strategico di ricchezza enogastronomica che è anche fra i principali motori del turismo nazionale ed estero in Italia tutto questo emerge da un censimento presentato appunto da Coldiretti quindi una situazione drammatica non solo per chi fa allevamento chi vive delle malghe o dei prodotti dell'alpeggio ma proprio per tutto il Veneto per tutta una filiera che rischia di incrinarsi con quello che stiamo vivendo rientrata invece l'emergenza idrica a Valdobbiadene ma i comuni non abbassano la guardia vediamo rientrata l'emergenza idrica a Valdobbiadene ma l'ombra sempre più buia della siccità continua a tenere in guardia tutta la zona della pedemontana siccità e incendi un binomio ormai sempre più inscindibile e quindi sarà un'estate senza tregua per i vigili del fuoco ma anche i tanti volontari che ogni giorno lasciano il loro posto di lavoro e scendono in campo per la sicurezza del territorio e della cittadinanza un appello che io su questo discorso qua faccio anche i cittadini che frequentano il monte Cesenghi il monte Grappa o quant'altro vi raccomando non accendete nessun caminetto o quant'altro di far fiamme perché il rischio è elevatissimo e sono stati in tantissimi volontari di Avab che hanno lavorato in questi giorni di emergenza fianco a fianco dei vigili del fuoco in una delle zone più colpite dalla siccità Valdobbiadene e le sue frazioni come San Floriano e Guia la risposta è stata velocissima sia da parte della regione da parte della TS e da parte del comune di sviluppare subito di serbatoi per rifornimento dell'acqua perché c'erano due zone che erano rimaste senza acqua noi purtroppo abbiamo il problema che acqua è un po' insufficienza e quindi dobbiamo garantire anche le famiglie anche quelle più bisognose logicamente di avere la situazione con l'acqua in casa acqua che in questo momento manca anche agli animali stiamo fornendo acqua per il bestiame però il bestiame si vede anche la situazione il bestiame sta rientrando nelle zone basse perché il bestiame non ha la stessa produzione che avevano negli anni scorsi perché mancando l'erba e quant'altro l'alimentazione a queste mucche i malgatori sono obbligati a scendere con il bestiame emergenza idrica questa che non ha toccato nel vivo il comune di Segusino in una posizione strategica rispetto all'acqua proveniente dal bellunese parte dell'acqua purtroppo si ferma anche da noi e questo è uno dei motivi per cui poi a Valdobbiadene hanno avuto difficoltà che a Segusino erano state messe diciamo in preventivo in maniera cautelativa per fortuna poi in realtà non si sono non sono venute abbiamo anche la fortuna di avere una sorgente comunque anche diciamo a mezza costa che ci permette di riempire alcune vasche che ci danno un'autonomia per un giorno giorno e mezzo anche in caso di default dell'acquedotto nonostante l'emergenza rientrata una situazione è questa che necessita ancora massima attenzione soprattutto da parte della comunità faccio un appello pubblico per nuovamente se qualcuno in cittadino ci ascolta di mettersi una mano sulla coscienza prima di andare in pubblicità vediamo assieme le mappe che ci arrivano dall'Arpav che ci fanno vedere la situazione pochi minuti fa in Veneto potete vedere che sì sono temperature effettivamente un po' alte ma sono soprattutto temperature estive si va difficilmente oltre i 31 gradi vediamo che per esempio a Treviso poco fa c'erano circa 31 gradi a Vicenza Isola Vicentina 31 e 1 però nel resto del Veneto sono temperature decisamente in media con il periodo che poi scendono addirittura a 16 gradi sul Grappa a 17 gradi sul Cesen poi in alto piano dei 7 comuni a Lusiana 25 gradi quindi 23 ad Asiago giusto magari per fare un po' di invidia a chi in questo momento è in pianura al caldo è cambiato il tempo dovrebbe perdurare questo stato accettabile per qualche giorno poi c'è da capire se arriverà di nuovo il gran caldo oppure se arriveranno le piogge come annunciato e suggerito da alcuni meteorologi come sempre noi ve lo racconteremo nel corso della nostra informazione adesso a questo punto facciamo l'ultima brevissima pausa pubblicitaria voi state con noi perché torniamo fra pochissimo siamo in onda fino all'una e mezza state con noi buongiorno bentornati al Focus Tg siamo anche oggi in onda in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto non ci sono al momento tre aggiornamenti delle notizie di cronaca quindi proseguiamo con i temi del periodo ovvero la siccità ma anche il prelievo nei corsi d'acqua in questo caso del bellunese c'è un emendamento al decreto concorrenza approvato ieri alla Camera dei Diputati che parla proprio di concessioni idroelettriche vediamo cosa dice Ristori garantiti per legge ai territori montani come la provincia di Belluno interessati dalla presenza di opere di grande derivazione idroelettrica stavolta è scritto nero su bianco nell'emendamento del PD votato ieri dalla Camera dei Diputati che ha approvato il decreto concorrenza all'interno di questa norma c'è stato un grande lavoro del Partito Democratico per fare in modo che i territori abbiano un vantaggio concreto da questi rinnovi un vantaggio in termini ambientali ma anche in termini di risorse finanziarie per la prima volta e per legge dello Stato i titolari di concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche dovranno garantire non solo i ristori ma anche il mantenimento di livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico l'articolato ribadisce la competenza regionale nel rinnovo delle concessioni però dice anche che i territori montani devono avere la loro parte ci sono temi anche di carattere ambientale come il deflusso minimo che vengono assolutamente riaffermati con forza ma soprattutto c'è questo riordino adesso ovviamente nei prossimi due anni ci sarà da sviluppare le normative di carattere regionale e soprattutto ci sarà da fare una battaglia per il territorio bellunese perché la totalità dei canoni idroelettici vengano lasciati nel territorio e nei comuni della provincia di Belluno un primo concreto esempio di servizio attinente a un ecosistema che regola il prelievo naturale assicurando ritorni per i territori montani dove il bene viene prodotto naturalmente la scorsa settimana il progetto di legge regionale sulle grandi derivazioni d'acqua d'uso idroelettrico ha avuto il via libera della seconda commissione consigliare e ora è atteso il passaggio in consiglio regionale spero che nei prossimi mesi si possa vedere luce una legge regionale che ribadisce che le risorse dell'idroelettrico devono rimanere in provincia di Belluno ora facciamo una breve digressione nel tema dell'epidemia il coronavirus scende la curva in Veneto arrivano notizie comunque importanti in questo caso parliamo dell'azienda ospedaliera di Padova poi vediamo assieme in chiusura di TG come sempre i dati che ci arrivano dall'azienda zero della regione del Veneto sono 15.190 i casi attualmente positivi al covid a Padova sui 96.356 complessivi in tutta la regione i nuovi positivi 1.563 su 8.438 in Veneto la curva sta scendendo e c'è ottimismo da parte del direttore generale Giuseppe Dalben che in una conferenza stampa analizzando i grafici presentati in azienda ospedaliera ha spiegato come si riscontrano casi di persone positive al virus ma non ricoverate per il virus non sono state più sviluppate aree interamente covid e c'è ottimismo per gli sviluppi futuri c'è ottimismo per l'andamento della curva che è una curva che sta scendendo direi molto rapidamente e previsioni a fine agosto di un 50.000 soggetti positivi nella nostra regione quindi metà rispetto a quelle che abbiamo adesso è un numero sempre come vuol dire importante quindi io non smetto di sottolineare l'importanza dell'attenzione che si deve avere con il uso della mascherina distanziamento sociale evitare assembramenti evitare luoghi al chiuso affollati e così via e poi vaccinazione gli altri virus tuttavia stanno impegnando i sanitari per la presa in carico e per i pazienti ricoverati West Nile Toscana e il vaiolo delle scimmie sono un problema principalmente per gli anziani accanto al coronavirus ci sono anche questi altri virus West Nile Toscana il virus del vaiolo delle scimmie in totale stiamo seguendo abbiamo seguito stiamo seguendo circa una ventina di persone attualmente sono 5-6 persone appunto ricoverate e quelle ricoverate sono per gran parte dovute al West Nile uno per il Toscana virus sono persone anziane che naturalmente hanno delle patologie a monte là dove appunto arriva il virus può provocare appunto dei danni e quindi ricoveri in ospedale quindi anche qui attenzione attenzione a come ci si impone nell'ambiente esterno l'uso di repellenti l'uso di abiti molto chiari eccetera allora cambiamo ancora argomento parliamo di economia sono sempre di più e pare che saranno ancora di più i negozi che chiudono e che chiuderanno in questo periodo davvero drammatico ci sono delle città delle cittadine che danno il via a campagne per cercare di governare questo cambiamento vediamo è una piccola campagna pubblicitaria che dà inizio a un nuovo percorso sul tema dei locali sfitti delle aree diciamo poco degradate del territorio Montebellune in metamorfosi è il nuovo progetto volto a favorire il commercio all'interno del distretto urbano denominato Cintà Emporio attraverso una campagna di comunicazione finalizzata a sollevare una riflessione politica e culturale sul fenomeno dei locali sfitti che a Montebelluna se ne registrano oltre 90 da febbraio di quest'anno è un'opera di sensibilizzazione raggiungerà in maniera più capillare possibile i cittadini e le imprese del territorio l'attesa da parte nostra dell'amministrazione è quella che ci sia viva collaborazione da parte di tutti gli attori e che ci sia una consapevolezza dai commercianti Montebelluna ha subito negli anni numerosi rinnovamenti sia sulla viabilità sia sull'arredo urbano ora la città propone che tutti gli attori dai cittadini ai commercianti siano responsabilizzati sul tema della rinascita dei centri urbani come luoghi di incontro la somma messa a disposizione sono 15.000 euro i quali verranno spesi sia per questo tipo di iniziativa sia da quello che abbiamo già fatto quindi dalla parte dei consulenti e dello studio stesso il tutto viene dato da contributo comunale il quale ci sosterrà questo tipo di iniziativa c'è un logo che non è dritto che ispira il dinamismo e ci sono due frecce che rappresentano il ciclo dell'innovazione continua come anche ribadisce l'amministrazione comunale Montebelluna ha compiuto uno scatto che l'ha messa in prima fila facendola diventare una cittadina con una struttura urbanistica all'avanguardia pertanto ora l'obiettivo è quello di pensare al futuro prossimo perché la pandemia ha creato un cambiamento così repentino da richiedere nuove evoluzioni nel commercio locale abbiamo l'obbligo e il dovere morale di poter contribuire al benessere della città e al benessere di tutti noi adesso ci spostiamo nella Bassanese c'era arrivata una segnalazione riguardante una pista ciclabile che sembrava aperta ma non lo era perché in realtà c'erano ancora tutti i cartelli di cantiere in corso come sempre facciamo quando riceviamo le segnalazioni di voi telespettatori dei cittadini siamo andati all'amministrazione dell'amministrazione comunale abbiamo chiesto conto di questa situazione ecco che cosa è venuto fuori ciclo pedonale che collega a Cassola la statale 47 in prossimità dell'Eurobrico a via Croceron lungo la ferrovia un cantiere aperto che però sono in tanti a usare nonostante transegne ormai rimosse per praticità e sicurezza perché appunto evita il transito lungo la trafficatissima Val Sugana ce ne siamo occupati dopo che alcuni telespettatori ci avevano segnalato lo stato di totale abbandono in cui versa la ciclabile in realtà i lavori non sono ancora ultimati e noi abbiamo chiesto spiegazioni al sindaco di Cassola Aldo Maroso che precisa come questa rientri nelle opere di compensazione per la realizzazione del centro di obbistica le segnalazioni sono arrivate anche a noi naturalmente abbiamo sollecitato per quattro volte mi dico negli uffici la ditta a sistemare perché deve essere fatta una piccola variantina rispetto al progetto iniziale per togliere una riga di verde che era e che è quella infestata attualmente dalle erbacce però se la si pratica è sicura sì è sicura è indecorosa diciamo ma è sicura Maroso ricorda come a breve inizieranno anche alcuni lavori che porteranno alla chiusura di parte di via Crocerone e quindi anche della ciclabile fra un po' di tempo verrà comunque chiusa una parte di via Crocerone quindi anche l'accesso della via Crocerone perché dobbiamo far passare la fognatura attraversando sotto la ferrovia quindi ci sarà un mesetto forse di più anche di chiusura di quella parte di via Crocerone nel frattempo in attesa che le opere per i sottoservizi inizino coglie l'occasione per lanciare attraverso le nostre telecamere una sorta di sondaggio la domanda che ci facciamo è gli utenti che la usano preferiscono che si chiuda o comunque percorrere nonostante sia indecorosa come è in questo momento perché è comunque comoda e utile torniamo nel Trevigiano vediamo l'ingresso dei privati nella gestione del museo del Bailo il privato entra nella gestione del museo il polo museale di oltre 3500 metri quadri la scelta rappresenta una svolta significativa ma la direzione resta in capo all'amministrazione comunale il comune quindi i musei civici rimane la completa direzione e autonomia decisionale di tutto ciò che verrà fatto il museo quindi non si perde nulla rispetto al passato ma si apre grande un'opportunità perché grazie all'incredibile conoscenza e anche le possibilità del privato potremo arricchirci ancora di più di competenza professionalità l'accordo con il privato che non comporta nessuna spesa maggioritaria rispetto alla gestione precedente prevede una collaborazione attiva con il pubblico volta a valorizzare il teatro in diversi ambiti parliamo del gestione del bookshop quindi di un negozio all'interno dei bailo che possa portare risorsa alla struttura ma anche rappresentare un'esperienza e poi per esempio della didattica che si arriccherà di tante altre novità l'azienda privata che subentra è a conduzione familiare e pertanto come ribadisce l'assessore Colonna Preti si sposa bene con il valore della città di Treviso prima risalevamo i servizi di biglietteria del bookshop della didattica e in parte anche del personale e tutti questi servizi sono affidati dopo che c'è stato un bando di gare e una stretta negoziazione per arrivare ad un accordo finale alla Duva insieme a una rete di imprese a disposizione del privato 180 mila euro che però si fa carico del rischio di impresa il privato deve assicurarci tutti i servizi base per la gestione museale ma in più diventa come dire coorganizzatore perché più il museo guadagna più anche il privato guadagna quindi noi condividiamo il rischio di impresa ma soprattutto lavoreremo assieme per far sì che i nostri musei oltre a tramandare il nostro patrimonio culturale cittadino la conservazione ospitare tutti gli eventi possa sempre di più diventare attraverso le mostre temporanee il bookshop e tante attività agli eventi anche una fonte di guadagno per la nostra città andiamo a Padova dove si parla di protocollo per gli appalti due anni di lavoro attorno al tavolo oltre al comune i sindacati CGL Cisle Will Industria Veneto Centro Ance Padova Confartigianato Imprese e CNA Padova un protocollo destinato a cambiare il volto e soprattutto le possibilità di accesso e controllo sugli appalti le opere le forniture e i servizi del comune di Padova che si preparano a nuova stagione di grandi opere siamo riusciti un tempo abbastanza lungo quasi due anni mettere d'accordo sia i datori di lavoro sia l'amministrazione comunale i sindacati un po' tutti insieme un po' rivoluzionario fare una parte solo è sempre stato estremamente facile darsi la zona è facilissimo mettere tutti insieme è stato un grande lavoro Tre i punti fondanti spiega l'assessore al lavoro Margherita Colonnello E' epoca in cui le condizioni del lavoro rischiano di peggiorare a causa della crisi in atto Padova dice no ripartiamo dalla dignità del lavoro ripartiamo dal rispetto dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e naturalmente anche della dignità delle imprese dal punto di vista dei contenuti questo protocollo è innovativo a livello nazionale su almeno tre aspetti il primo è che il comune l'ente locale quindi in collaborazione con tutte le parti datoriali e sindacali redige le redige gli appalti il secondo aspetto è che nell'applicazione dell'appalto il comune può monitorare l'appalto stesso soprattutto qualora si trasformasse in subappalto o in subappalto di terzo livello infine nelle premialità andiamo a dare una direzione su quella che deve essere l'imprenditoria del futuro Sostenibilità ambientale ed energetica inserimento di lavoratori con disabilità o svantaggiati tra gli elementi premianti per l'aggiudicazione dei cantieri e per quanto riguarda i prezzi delle materie prime che tanto hanno preoccupato gli imprenditori in questi mesi la possibilità di rivedere i capitolati previ alla documentazione degli aumenti Ora ci spostiamo a Vicenza dove da dove ci arrivano tante segnalazioni da parte dei telespettatori e dei cittadini su cose che potrebbero andare meglio che andrebbero sistemate magagne piccoli problemi di quartiere o a volte anche grandi problemi di quartiere siamo andati ad esempio nel quartiere Ferrovieri Quartiere Ferrovieri da riprendere in mano la richiesta dei cittadini all'amministrazione la voce dei residenti che chiedono maggiore attenzione per la pulizia delle strade per la cura delle aree verdi dei parchi gioco lamentano un decoro urbano trascurato e poi il retrone polmone del quartiere che necessita a detta di chi lo vive di un progetto una spinta in più per la fruibilità e la valorizzazione un po' più di pulizia delle strade anche l'incuria delle aiole basta guardare che non è che siano molto curate ecco per il resto è un quartiere vivibile questa zona dove si forma tanta gente è spesso sporchissima anche lungo la strada questa per risalire verso il centro se lei guarda anche vicino alla zona dei cassonetti è indecente quello che c'è intorno insomma roba buttata via non pulita bene adesso le piatte sono così e l'erba è alta così ci sono degli spazi aperti molto belli tipo il parco elettrone i vari parchetti giochi per i bambini ce ne sono due insomma mi sembra abbastanza dovrebbe forse essere un po' più curato ci vorrebbe un attimo più di attenzione per le strade per le pulizie utilizzare meglio l'aria del parco elettrone naturalmente in che modo andrebbe utilizzata secondo lei sì rendendolo più fruibile alla cittadinanza chiedono anche maggiori servizi alle persone specie dedicati alle fasce più fragili e poi il decoro urbano che passa anche attraverso il rifacimento di strade e marciapiedi i parchi e certamente vediamo anche i marciapiedi e dopo soprattutto il coro ai servizi alle persone servizi quali? agli anziani e ai piccoli che manca un po' le strade sì ecco quelle un pochettino magari da metterle a posto sì da sfaltare sì non solo anche il degrado sociale incombe tra i residenti campeggia la richiesta di potenziare i controlli soprattutto nelle ore serali vorrei un po' più di controllo perché talvolta la sera ho riscontrato una situazione più pericolosa che in passato molti schiamazzi persone non proprio diciamo un po' equivocaboli ecco però per il resto direi che è un bel quartiere queste le voci dal quartiere Ferrovieri in precedenza ci erano arrivate delle istanze per quanto riguarda via Medici sempre a Vicenza abbiamo raccolto tutte queste istanze tutte le voci dei cittadini e le abbiamo portate al sindaco all'incrocio con pericolo noi di Rete Veneta nel nostro giro per i quartieri di Vicenza eravamo stati chiamati in via Medici all'angolo con via San Martino dove il passaggio pedonale è considerato molto molto pericoloso molto pericoloso attraversare questo passaggio veramente veramente mi fa paura quando io devo attraversare ci penso dieci volte c'è stata una signora qua sopra che l'hanno catapultata sulla strada e ha avuto delle bruttissime fratture sì sì tante volte hanno fatto qua incidenti l'ottima volta qua una settimana fa una signora manovestita in effetti qui sono accaduti diversi incidenti oggi come promesso portiamo la voce di questi cittadini al sindaco di Vicenza Francesco Rucco che riguarda con noi il servizio andato in onda su Rete Veneta nessuno che rallenta le macchine passano anche abbastanza velocemente qui sarebbe il momento di infilarsi questo furgone come vedete si ferma e fa passare questo signore certamente ogni tanto succedono sti incidenti e speriamo non scappi il morto vabbè facciamo gli scongiuri tocchiamo ferro ma non possiamo affidarci solo agli scongiuri bisogna trovare una soluzione la proposta più di buon senso probabilmente è quella di segnalare maggiormente il passaggio quindi sia a livello raso di superficie con un rialzamento e poi a livello luminoso come avviene in altri incroci abbastanza pericolosi in città sindaco per favore metta in sicurezza questo passaggio questo incrocio per la sicurezza di tutti noi cittadini ecco sindaco questo è il servizio che è andato in onda su Rete Veneta che cosa risponde? rispondiamo che stiamo facendo un intervento in tutta la città di messa in sicurezza dei passaggi pedonali molti passaggi necessitano di interventi con isole pedonali con illuminazione ad hoc e con rallentatori l'operazione che stiamo facendo ne prevede già 20 nelle prossime settimane di installazioni alcune sono già state installate arriveranno in alcuni punti della città ovviamente anche segnalate dai cittadini l'impegno di prendere in carico anche questa segnalazione e di portarne naturalmente di nuove installazioni 20 sono già previste facciamo anche la ventunesima segnalata dai cittadini di via Medici ma potrebbe essere il modo per programmare un nuovo intervento sicuramente ne faremo anche dell'altra valuteremo via Medici le inseriamo magari tra le priorità in maniera tale da poter intervenire il prima possibile ci sono dei tempi tecnici e anche la necessità della copertura di bilancio ma le risorse per la sicurezza stradale si trovano benissimo avete sentito il sindaco prende l'impegno di valutare anche via Medici di inserire quel passaggio pedonale tra le priorità di solito si dice abbiamo fatto 30 facciamo 31 questa volta avete fatto 20 farete 21 ringraziamo il sindaco ovviamente sindaco aspettiamo di vedere per credere dunque la questione non finisce qui ma continua con questa promessa con questa raccomandazione vi invitiamo poi a seguire il Tg Vicenza per capire dove vanno a parare queste scelte anche amministrative nate da segnalazioni di voi tre spettatori andiamo a vedere i lavori della nuova piazza di Cornedo adesso Cornedo Vicentino obiettivo la futura nuova piazza per arrivarci bisogna percorrere via Cavour in tutti i sensi innanzitutto perché il primo passo viene compiuto sul marciapiedi con i lavori di rifacimento che già prevedono la stessa pavimentazione che verrà utilizzata per la ristrutturazione della centralissima piazza Aldomoro qui possiamo vedere il primo stralcio un primo assaggio di quello che è il più grande progetto di rigenerazione urbana che Cornedo abbia mai avuto dal dopoguerra ad oggi è un piccolo assaggio del marciapiede di via Cavour un marciapiede dove vengono utilizzati i materiali che poi utilizzeremo nel progetto più grande di tutta la piazza è un progetto che vede come filo conduttore la modernità la solidità dei materiali ma soprattutto la loro eleganza la scelta è caduta su una betonella quindi un materiale che non fa finta di essere qualcos'altro un materiale moderno ma che nello stesso tempo ha come dire delle capacità di resistenza alle sollecitazioni del traffico e al gelo ai trattamenti antigelivi che ci garantiscono una durata nel tempo insomma il marciapiedi di via Cavour vestito con una pavimentazione in betonelle permette di avere un'anticipazione su quella che sarà la futura piazza ma c'è un'altra novità viene istituito un senso unico per garantire il passaggio in sicurezza con i lavori in corso questa sperimentazione ci ha permesso di capire la bontà di questa scelta tanto che l'amministrazione sta pensando di passare da una sperimentazione a un senso unico definitivo perché per due motivi fondamentalmente il primo perché ci permette di avere spazio per creare posti macchina nel limitro sono nate nuove attività che hanno bisogno di stalli di sosta e così potremmo averli ma soprattutto perché con il senso unico riusciamo a risolvere un annoso problema che è la criticità l'intersezione critica tra via Garibaldi e via Cavour in questo modo con il senso unico i veicoli possono svoltare in sicurezza e dovremmo risolvere quel punto nero che in passato ha creato delle situazioni di conflitto e spesso anche degli incidenti vediamo la difficile situazione della procura di Treviso nel settembre verrà istituito un ufficio definizione affari semplici per poter fare in modo che il grosso delle risorse si concentrino sulle questioni più importanti e complicate e che le questioni più semplici vengano definite in maniera standardizzata anche qui in maniera seriale e quindi di sfruttare quella che si potrebbe chiamare un po' un'economia di scala un ufficio affari semplici per gestire le indagini meno complesse è uno dei provvedimenti a cui sta lavorando il procuratore capo di Treviso per dare una risposta alla cronica difficoltà in cui versano gli uffici al quarto piano del palazzo di giustizia c'è una grave carenza di personale di segreteria che si riflette sull'assistenza ai magistrati e sul disbrigo poi delle pratiche di segreteria inerenti alla definizione dei fascicoli al lavoro dei magistrati ecco allora una prima soluzione è l'ufficio affari semplici ci sarà una riorganizzazione dell'ufficio in base a un nuovo progetto organizzativo e ci sarà anche una ridefinizione dell'assetto della segreteria penale dell'assistenza dei magistrati però resta solo il discorso che quando la coperta è corta spostandola magari può essere utile per coprire le parti più sensibili al freddo ma alla fine qualcosa di scoperto resta un tema quello del personale di segreteria che vede anche il sostegno della regione alla quale il procuratore si rivolge per avere un rinforzo la regione per cui mi risulta ha fatto l'interpello del personale per vedere se ci sono soggetti interessati a fare un periodo da noi dopo l'estate spero che ci sia qualche risultato perché il pericolo è sia una giustizia a rilento che una certa impunità dettata dalla prescrizione legata ai tempi di giudizio per questo serve ogni singolo elemento utile a far funzionare la procura dai magistrati al singolo operaio magari fornito in supporto dal comune detto questo il capo della procura di Treviso lancia un messaggio chiaro ai cittadini posso peraltro assicurare che le cose gli affari veramente urgenti l'ufficio è tuttora in grado di trattarli tempestivamente ed efficacemente vediamo in chiusura i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della regione del Veneto sono arrivati poco fa in redazione allora sono li mettiamo un po' più in grandi in modo che si possano vedere bene anche da casa sono 7.422 le nuove positività riscontrate con i tamponi della giornata di ieri che portano il totale delle persone positive in Veneto a 96.718 il numero complessivo è in lieve calo siamo comunque sotto la quota delle 100.000 unità quota anche psicologica che avevamo visto sforare la settimana scorsa e mantenere per qualche giorno quindi vuol dire che la situazione comunque è in calo ma vediamo adesso quello che è lo stato degli ospedali del Veneto come potete vedere nella colonna di sinistra che stiamo scorrendo quasi tutti gli ospedali hanno delle positività al loro interno e questa è la situazione complessiva sono 1.081 le persone ricoverate in area non critica di cui 769 ancora positive al Covid e 312 che si sono negativizzate nel frattempo sono 37 le persone ricoverate in terapia intensiva di cui 23 ancora positive 14 che si sono negativizzate vediamo la differenza rispetto alla giornata di ieri c'è un bilancio positivo di 31 unità vuol dire che ci sono stati comunque parecchi ingressi in ospedale di persone affette dal Covid meno 1 bilancio negativo di un'unità quindi sostanzialmente invariata la situazione delle terapie intensive sono da segnalare purtroppo ancora 4 decessi sicuro di decessi un numero che è altalenante però fino a quando non vedremo il numero 0 per parecchi giorni su quella casella non potremmo dire di esserne uscite l'attenzione deve essere sempre massima anche e soprattutto in questo periodo questa era l'ultima notizia dicevamo del nostro telegiornale noi ringraziamo Fabio Verin e Andrea Alessandro Costacurta per la regia ringraziamo tutti i colleghi gli operatori tecnici che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie dal Veneto ringraziamo voi per essere stati con noi e vi diamo appuntamento a Tg Bassano al Tg Vicenza di questa sera per tutto quello che non è stato detto fin qui per tutto quello che accadrà poi nel corso della giornata e naturalmente vi auguriamo un buon pomeriggio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti